Nuova accusa per il nipote di Crocco, sottrazione e distruzione di cadavere. Questa è un'ulteriore contestazione attribuita a Claudio Borgarelli, nipote del 68enne decapitato nei boschi di Craveasco a Lumazzo. Mortale sulla 12, scalcerato l'automobilista e agli arresti domiciliari Biagio Cappiello, il 33enne che martedì ha travolto e ucciso sulla 12 un belto Andrea Leone, l'operaio di 60 anni che stava lavorando in un cantiere tra Seste Levante e Eva Marina. Sequestrato un quintale di droga, la Guardia di Finanza ha intercettato nel porto di Genova un SUV imbottito di ascisce. Due arresti. Buonasera dal TGT Guli, apriamo questa edizione del nostro telegiornale con il delitto di Craveasco nel comune di Lumazzo. C'è una nuova accusa per il nipote di Crocco che è indagato appunto per questo fatto. Vediamo. Sottrazione e distruzione di cadavere. E questa l'ulteriore contestazione attribuita a Claudio Borgarelli, il nipote di Albano Crocco, il 68enne decapitato, martedì 11 ottobre nei boschi di Craveasco nel comune di Lumazzo. Borgarelli, già indagato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla parentela, è l'unico indagato per l'omicidio e continua a professarsi innocente. Oggi, intanto, riprendono le ricerche dei cani molecolari dell'unità cinofila dei Carabinieri di Bologna alla ricerca della testa della vittima. Nei giorni scorsi, uno dei cani di Crocco aveva cominciato a scavare in una zona precisa del bosco che ora verrà analizzata. Un olandese di origine nord-africana in viaggio con i figli ha appena sbarcato da una nave proveniente da Tangeri via Barcellona. Un passeggero come tanti se non fosse stato per quelle lievi tracce di manomissione sul proprio SUV notate dalla Guardia di Finanza. Sono i particolari del nuovo maxi sequestro di droga avvenuto nelle scorse ore all'interno del porto di Genova. A bordo della vettura erano nascosti bene 269 panetti di ascisce, 107 chili in tutto nascosti nelle intercappetine della carrozzeria. Padre e figlio ora si trovano nel carcere di Genova Marassi, mentre 7 telefonini cellulari, le 16 SIM card e i 1700 euro in contanti che avevano con loro sono stati sequestrati. Le indagini continuano, la Guardia di Finanza infatti sta cercando ora di risalire ai destinatari del prezioso carico. E adesso ancora cronaca perché è stato scarcerato l'automobilista che ha ucciso martedì scorso un operaio di 60 anni sulla 12 tra Sesti Levante ed Eva Marina. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari. È stato scarcerato Biagio Cappiello, il 33enne che martedì scorso ha travolto e ucciso sulla 12 l'operaio sessantenne Umberto Andrea Leone che stava lavorando in un cantiere tra Sesti Levante ed Eva Marina. L'arresto dell'uomo idraulico originario di Altamura che vive a Matarana nel comune di Carrodone è stato convalidato ma il GIP Teresa Rubini ha disposto per lui i domiciliari. L'uomo risultato per due volte positivo all'alcol test e ai cannabinoidi con la patente revocata su un'automobile della sua compagna priva di assicurazione è stato interrogato oggi nel carcere di Genova Marassi per la convalida dell'arresto. Il suo legale, l'avvocato Marco Goggioso di Chiavari, ha chiesto e ottenuto i benefici della detenzione domiciliare. L'uomo non ha risposto alle domande del giudice e non ricorda nulla dell'incidente. Il triste gioco della privatizzazione è servito su un piatto d'argento. A dirlo Marco De Ferrari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle con riferimento alla vicenda ATP, l'azienda di trasporto provinciale. De Ferrari ripercorre quanto accaduto negli ultimi mesi ed attacca il sindaco metropolitano di Genova Marco Dori accusato di essere intervenuto contro il pubblico e in difesa del privato in ATP. Il consigliere Greilino chiede poi alla regione Ligure di convocare immediatamente l'osservatorio regionale sul trasporto pubblico previsto per legge e l'osservatorio sulle province al fine di avviare un tavolo monotematico. Agiremo in tutte le sedi istituzionali, conclude il pentastellato, affinché il trasporto resti pubblico e sociale. Sciopero generale oggi in diversi settori, trasporti, ferrovia, aeree e marittimi, scuola, pubblica amministrazione e panifici. Abbiamo parlato con Piero Ragazzini, che è il segretario nazionale della CISDA. Dal suo osservatorio parliamo un attimo di pensioni. Intanto siamo riusciti a fare un accordo importante con il governo, riformando di fatto la legge Fornero. Abbiamo realizzato un obiettivo importante perché nella legge di stabilità sono previsti 7 milioni di euro per far fronte all'aumento delle pensioni attraverso quella che viene chiamata la quattordicesima per le pensioni più basse. Soprattutto abbiamo realizzato il fatto di creare le condizioni per mandare in pensione prima, in maniera flessibile, soprattutto i lavoratori che svolgono attività usuranti, perché i lavori non sono tutti ugali e questo credo sia un risultato molto significativo per il sindacato confederale. Oggi è una giornata di scioperi in qualche modo. I trasporti da noi sono un problema, come lo sono ovunque, ma in maniera particolare è il pubblico impiego. Che tipo di visione avete? Intanto oggi è lo sciopero dei sindacati ottoni, non è lo sciopero di CGL Cisleuil. Sicuramente questi due temi sono però temi delicati, quindi noi incalzeremo il governo sia per quanto riguarda la questione del rinnovo del contratto del pubblico impiego. Il governo ha messo una posta su questa voce, ma non è sufficiente per fare il contratto. Noi abbiamo calcolato che se dividessimo in maniera egualitaria i soldi messi a disposizione sarebbe un aumento risibile, 10-15 euro. Questo non è credibile perché la pubblica amministrazione e i trasporti sono sicuramente fattori di sviluppo oltre che di servizi ai cittadini. Partiranno a Portofino entro due settimane i lavori per la messa in sicurezza, la sistemazione di Castello Brown che ha avuto dei danni dopo il mal tempo di una settimana fa. Cominceremo a smaltire i detriti, il pino abbattuto dice il sindaco Matteo Viacava, poi procederemo con la messa in sicurezza del terrazzo e rimpianteremo i tre alberi simbolo del castello. È in corso la verifica di alcuni sentieri, comunque nel borgo di Portofino, il bilancio dei danni è elevato, stiamo preparando preventivi, conclude il sindaco e credo che andremo a sfiorare il milione di euro. Come il paesaggio modella l'immaginazione è la domanda, ma anche il tema del progetto che vede come capofilo al Comune di Sestervante e a cui è anche aderito il Comune di Chiavari e Lavagna, vengono coinvolti diversi artisti che verranno ospitate in Etiguglio, in particolar modo a Sestri. Vediamo. Come il paesaggio modella l'immaginazione? È la domanda, tema del progetto che vede il protagonista del Comune di Sestervante con altri comuni, ma che vede anche il coinvolgimento di artisti. Di cosa si tratta? Dunque, si tratta di un programma di residenze transnazionale e qui nel Tiguglio ospiteremo una partita gemella di questa prima residenza, di questa prima fase di residenze. Infatti in questo stesso momento, ufficialmente a partire dal 21, quindi da stasera col primo arrivo del primo artista, fino al 31, contemporaneamente qui e nella Tuscia, a Viterbo, si realizzerà questa prima fase di residenze per artisti. A questa fase ne seguirà un'altra che avverrà in Slovenia, a Lubiana. Quindi da qui partiranno, dalla Tuscia partiranno e se ne andranno in Slovenia. È un progetto che fa parte di una, diciamo, piattaforma più ampia e rientra dentro ai programmi della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo, che è una Biennale d'arte, quindi un evento espositivo biennale in cui vengono portati ad esporre gli artisti under 35 emergenti o interessanti, ma è anche un'associazione di associazioni. Quindi questa BJCM è, diciamo, il grande cappello dentro il quale andiamo noi ad operare. È Arci Liguria che, come membro della piattaforma BJCM, promuove la residenza qui nel Tiguglio. Residenza che non potrebbe esistere se non ci fosse, però, l'amore, la collaborazione, è la passione che ci hanno messo tutti coloro che, insieme a noi di Apuà e di Arci Liguria, che sono, diciamo, i due Arci Liguria chiaramente promotrice, Apuà è l'associazione che si occupa della logistica e della mediazione con il territorio, appunto, tutte quelle realtà che con noi stanno rendendo possibile questa piccola magia. Sesto Elevante è capofila di questo progetto insieme ai comuni di Chiavari e di Lavagna, ma partecipano anche tante associazioni di cittadini. Sì, il progetto Artura ha coordinato un po' la ricerca di queste associazioni e delle altre realtà che hanno poi accettato di partecipare a questo progetto. L'abbiamo fatto innanzitutto perché il tema e il lavoro che verrà svolto in questo progetto da questi artisti corrisponde esattamente al genoma del progetto Artura, quindi per noi era importante esserci e dare un contributo fattivo, proprio perché crediamo molto a questo tipo di ricerca e di attività. L'abbiamo fatto anche per l'amicizia e la stima che ci lega Giuditta Nelli e all'associazione Apuà, con la quale abbiamo collaborato più volte ed è sempre stato un piacere e anche un incontro proprio importante sui temi specifici. Mi fa piacere ringraziare davvero tutte le persone, dai singoli cittadini alle istituzioni, che hanno voluto aderire a questo progetto, darci una mano, dare un contributo fattivo, portare questi ragazzi in giro per il Tiguglio, per le città, a scoprire il loro punto di vista sul territorio e sul paesaggio. L'assessore regionale alla protezione civile, Dottor Gianpedrone, come è la situazione in Liguria in questo momento dopo i danni subiti dalla recente calamità? Una situazione che purtroppo è abbastanza complicata, un'alerta rossa che ha lasciato parecchi danni su una vastità di territorio piuttosto importante sia nell'entroterra che nella costa. Stiamo lavorando con i nostri tecnici di protezione civile insieme ai sindaci per fare la computa dei danni e poi dalla settimana prossima iniziare il confronto con il Dipartimento nazionale per capire che tipo di stato di calamità chiedere e capire anche quali risorse mettere in campo per dare quelle risposte che i sindaci e i cittadini si aspettano. Quindi ad oggi non abbiamo ancora dei numeri da poter valutare? Direi di no, è una situazione molto vasta soprattutto con tanti danni ai privati quindi insomma con una situazione molto difficile da calibrare però ci stiamo lavorando, credo che la prossima settimana sarà quella più idonea per cercare di iniziare a mettere dei numeri nelle caselle danni. Detto ciò è chiaro che è una situazione molto in divenire con i sindaci che vanno soprattutto aiutati in una prima fase che è quella ovviamente delle strutture pubbliche qualora danneggiate e poi ragionare anche di che fare rispetto ai molti danni ai privati che mi pare sia la caratteristica principale di questa tornata. Un'iniziativa come quella di oggi ha evidentemente un'utilità determinante perché i cittadini possono autoproteggersi? Direi di sì, il titolo è molto importante, cioè capire e informarsi per evitare i rischi. Credo che sia fondamentale l'attività di protezione civile, che ha nella capillarità delle informazioni, l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, con un'alerta rossa che è stata sostanzialmente rispettata e applicata da tutti i cittadini, credo che abbiamo veramente salvato delle vite. Quindi l'accorciamento dalla catena di alertamento. Il fatto che ormai la messaggistica coi colori, credo sia entrata nella buona pratica di protezione civile in tutti i cittadini, credo che sia uno dei fatti fondamentali discussi quest'oggi. Poi se troviamo amministrazioni che riescono anche a fare una convegnistica così buona e importante rispetto a questi temi, credo che siamo sulla strada giusta. Una regione con le fragilità come quelle della Liguria, secondo lei la regione potrebbe intervenire perché a scuola si inizi a parlare di protezione? Questa è una bella domanda. Noi lo facciamo già da due anni attraverso una formula incentivata dal Dipartimento Nazionale. Si chiama Scuola Multimediale di Protezione Civile. Scegliamo 15 plessi scolastici all'anno di scuole medie e scuole elementari per portare un'attività educativa di protezione civile ai bambini e quindi ai più piccoli. Credo che sia fondamentale in quanto i buoni comportamenti di protezione civile servono certamente agli adulti ma servono anche ai bambini per far capire agli adulti un po' più rigidi che è assolutamente importante credo riuscire a capire che un'alerta si rispetta, un'alerta non si discute e comunque che da un buon comportamento di protezione civile si possono salvare vite e mettere in sicurezza delle cose. Consigliere delegato Marco Rocca, siamo arrivati al momento in cui si parlerà appunto di questa informazione che va assolutamente data ai cittadini per autotutela. È riuscito a mettere insieme i migliori tecnici che poteva pensare? Beh naturalmente sì, la qualità c'è tutta, esperti nel settore, ognuno nel proprio per informare perché vogliamo con questo appuntamento, con questo convegno appunto informare chi magari sa già però è giusto ribadire alcuni concetti importanti altre cose magari saranno delle novità per alcuni ed è giusto farglielo sapere farglielo sapere sempre in maniera chiara, in maniera semplice quindi con linguaggi comunque comprensibili perché è importante poi che sappiano mettere in pratica quello che comunque sia la protezione civile è, che ricordiamoci sempre, non è un organo esterno ma tutti noi siamo protezione civile quindi dobbiamo essere sempre pronti a mettere in pratica quello che noi dobbiamo saper fare. Abbiamo notizie dalla Regione per quanto riguarda i recenti danni che ci sono stati? La Regione si è subito mossa il giorno seguente all'allerta rossa per fare il punto sulla situazione danni non solo nostri locali del Golfo del Tiguglio ma anche Golfo Paradiso comunque in tutti i comuni dove hanno subito un danno sia in ambito pubblico che in ambito privato sarà loro cura così ci attendiamo muoversi più celermente possibile per o dopo aver fatto una cernita concreta dei danni subiti muoversi per trovare le somme necessarie per ritornare a uno stato di normalità. Rinardo Lavaggi coordinatore del gruppo protezione civile della Croceverde Chiavarese un incontro quello di oggi che fa seguito a un evento davvero importante e davvero sintomatico vale a dire in questi ultimi giorni abbiamo avuto un'allerta rossa che si pensava arrivasse a farci guardare l'acqua e invece abbiamo dovuto guardare il vento. Precisamente in effetti era un evento anche difficilmente prevedibile. Noi stessi avevamo preparato i mezzi e le attrezzature per l'acqua per la pioggia che doveva arrivare in maniera molto forte e poi in corso d'opera abbiamo dovuto cambiare completamente l'attività e dedicarci invece all'uso delle motoseghe per sgomberare le strade dove c'era il pericolo di caduta di albero, strade interrotte. Questa volta ha colpito duro, fortunatamente nella nostra zona ha colpito comunque meno rispetto all'entroterra di Recco dove siamo stati anche il giorno seguente. Questo significa che prevenire e affrontare le emergenze è un problema che si deve vivere nell'emergenza proprio, nell'immediato. Tutto è prevedibile come nulla è prevedibile. Certo, non a caso questa giornata di oggi è molto importante perché dobbiamo cercare di inculcare proprio nella mentalità di tutti il fatto della prevenzione, dell'autoprotezione. Queste sono le cose più importanti. Non servono a impedire naturalmente che si sviluppino questi fenomeni ma sicuramente aiutano a mitigare i danni per le persone, per le cose. Quindi voi che tipo di squadra avete in campo quando ci sono questo tipo di emergenze? Facciamo l'esempio di venerdì scorso. Sapendo che c'era l'alerta rossa noi naturalmente avevamo predisposto gli uomini reperibili ai mezzi. Siamo stati su Chiavari con 14 uomini divisi in quattro squadre e con il sottoscritto che è stato tutto il giorno dentro al centro operativo comunale a gestire i soccorsi che le nostre squadre portavano alla popolazione. Uno degli aspetti che è stato più importante e che ha evitato davvero grandi problemi è stato che l'allerta ha tenuto la gente in casa. Quanto è importante non sfidare la fortuna in questi casi? È importantissimo. Io ho visto che dopo gli eventi del 2014 quando abbiamo avuto l'alluvione a Chiavari moltissime persone hanno iniziato a comportarsi in maniera diversa dai locali che mettono le paratie quando c'è l'alerta alla gente che esce meno, alla gente che ha imparato a togliere ad esempio l'autovettura dai garagi semi interrati altrimenti è pericoloso andare all'ultimo minuto. Queste sono le cose importanti. Cercheremo di diffondere con altre riunioni di questo genere, cercheremo di diffondere anche nelle scuole perché è importante che i ragazzi già arrivino a casa portando questo genere di informazioni che poi sono utili per tutti. Quindi più si è informati e più possibilità di salvarsi ci sono? Sicuramente. Silvia Tassara, vicepresidente del gruppo CIF Telefono Donna e Centro d'Ascolto che è qui per presentare un'iniziativa importantissima che si svolgerà a Rapallo sabato. Sì, presso l'auditorium delle Clarisse di Rapallo faremo la presentazione del sito internet che abbiamo chiamato Una Porta Nuova, proprio perché questo sito sarà una porta aperta per le donne che si vogliono avvicinare al centro, per tutti coloro che vogliono capire di più di come funziona e sicuramente anche un'occasione per farci conoscere comunque dal nostro territorio. Noi operiamo sul territorio del Tiguglio e da poco abbiamo avuto un riconoscimento da parte della regione Liguria per quello che riguarda la nostra realtà come centro antiviolenza. L'avvocato Nicoletta Peri è la vicepresidente sempre del gruppo CIF Telefono Donna. Quando si parla di telefono donna ci si riferisce sostanzialmente anche a un discorso soprattutto a un discorso di violenza sulle donne, è così? Certamente. Il nostro centro ha una vitale importanza per il Tiguglio proprio per i servizi che vengono offerti alle donne che sono vittime di violenza. Noi abbiamo servizi di primi contatti telefonici, un'equip di specialiste che si occupa della valutazione del rischio che è un fattore molto importante, specialmente dal mio punto di vista proprio come legale, per il fatto che in questa maniera noi sappiamo quali richieste fare eventualmente ai giudici in base proprio al pericolo che realmente le donne corrono. Offriamo servizi di supporto psicologico sia singolo che all'interno di gruppi e ovviamente supporto legale. Riusciamo a fare uno schema di che cosa succede in seguito a una telefonata che vi viene ovviamente fatta da una persona, da una donna in difficoltà con o senza figli? Allora, la donna contatta il nostro centro, solitamente vengono presi degli appuntamenti quando la donna è d'accordo a fare questo perché lei consideri che solitamente una donna chiama svariate volte il nostro centro prima di manifestarsi. Quando finalmente è d'accordo a venire al centro per poter parlare con le nostre psicologhe molto spesso abbiamo altri problemi proprio perché vengano controllate e di conseguenza proprio la centralità del nostro centro, del fatto di essere a Chiaveri è determinata anche da questo, dal fatto che le donne controllate hanno pochissimo tempo e solitamente devono raccontare un sacco di bugie per riuscire ad arrivare a noi. Quando ciò accade vengono fatti degli incontri con le nostre psicologhe per riuscire a superare questa violenza e a rifarsi una vita perché sono cose difficili da superare. Viene dato quindi un supporto psicologico, vengono indirizzate ai legali del nostro centro laddove non abbiano già un legale di loro fiducia e da lì inizia un percorso un percorso che è variabile nel senso noi adesso stiamo anche attuando progetti abbiamo progetti molto importanti di inserimento lavorativo delle donne all'interno appunto di... E' determinante di fatto perché l'autonomia economica... Certamente l'autonomia economica è il primo fattore anche se a volte abbiamo donne che comunque subiscono violenza pur essendo indipendenti economicamente ci sono poi figli e quindi fenomeni di violenza assistita che lei può immaginare quale ripercussione hanno nel presente e nel futuro di questi bambini e quindi noi cerchiamo di dare un supporto grazie alla rete che abbiamo con tutti gli altri servizi sul territorio con le forze di polizia, con i servizi sociali e quant'altro proprio per dare a queste donne la possibilità di ricostruirsi una vita e il nostro lavoro è un lavoro difficile come potrai immaginare e un lavoro anche a volte frustrante perché queste donne spesso ritornano dai loro maltrattanti perché sono psicologicamente indipendenti e comunque fragili e un lavoro che noi lo riteniamo importante questo sito è un passo ulteriore che stiamo facendo proprio per dare massima diffusione perché comunque nonostante il numero rilevante di donne che si rivolge al nostro centro crediamo che comunque ce ne sia un numero altrettanto rilevante che non denuncia, che non contatta i centri antiviolenza magari perché non lo sa o magari perché ha paura e il fatto che comunque noi questo sito ci può aiutare ad arrivare anche laddove fino adesso non siamo arrivati Visto che mi dice che c'è un incremento evidentemente di telefonate e di contatti rispetto a questo fenomeno della violenza nell'ambito familiare le chiedo quali sono in generale le incidenze su questo territorio I numeri precisi non li ricordo però mi sembra che l'anno scorso noi abbiamo trattato circa 180 donne e ripeto, nelle stime nazionali si parla comunque di un 30% di sommerso rispetto a quello che invece emerge e di conseguenza questi sono numeri piuttosto rilevanti per il nostro territorio Voi sottolineate che il femminicidio è l'estrema conseguenza chiaramente del fenomeno della violenza è proprio di queste ore la notizia di una signora di Napoli che è stata uccisa dal marito e in casa i genitori hanno trovato una sorta di testamento quindi una morte annunciata ma annunciata dalla vittima stessa lei sapeva evidentemente che sarebbe stata uccisa quanto succede questo? Le donne vittime di violenza sanno forse a livello inconscio più che a livello conscio i rischi che corrono, sanno che il maltrattante non cambierà questo però non significa che spesso sopportino e continuino a stare nella stessa situazione e molto spesso sono i bambini quelli che poi fanno scattare la molla dell'allontanarsi specialmente quando la violenza poi viene ripercorsa sui figli però non è sempre così è molto difficile, è un argomento difficile perché anche se se ne parla grazie a Dio specialmente dopo l'introduzione alla legge sul femminicidio se ne parla un po' di più ma non se ne parla forse così spesso e non si affronta magari nelle scuole per insegnare alle ragazzine fin dall'inizio a riconoscere quelli che sono i primi sintomi i primi segnali di quello che poi diventerà un maltrattante e quindi è un fenomeno difficile capillare non ha target nel senso le donne non hanno un'età non hanno un'estrazione sociale è difficile fare una tipicizzazione se così è neanche il violento ha queste caratteristiche esattamente neanche il maltrattante ha delle caratteristiche specifiche e quindi quando un fenomeno si sviluppa in queste maniere senza caratteristiche che possano comunque aiutare chi si occupa di questo a individuare tutto diventa più complicato dal 2009 ad oggi evidentemente è un percorso sul quale avete potuto anche contare su delle collaborazioni nello specifico però ad oggi nel momento in cui presentate il sito avete la necessità di riconoscere collaborazioni? Sì, il sito è stato realizzato grazie a una raccolta spontanea di fondi realizzata dal gruppo Facebook Mamma a passeggio di Rapallo inoltre vogliamo ringraziare anche la grafica Stefania Mini e la programmatrice informatica Erika Rae che con il loro lavoro hanno potuto rendere possibile l'apertura del sito internet in più l'evento è patrocinato dalla regione Liguria dall'ASL 4 Chiavarese dai tre distretti sociosanitari 14, 15 e 16 dal comune di Rapallo, di Chiavari e di Sestri vogliamo ricordare il sito e da quando sarà attivo? il sito, una porta nuova, sarà attivo dopo la presentazione di sabato 22 bene, non mi resta che lasciarvi le previsioni meteo per la giornata di domani alla programmazione di Entella TV ricordo che l'informazione locale dalla nostra emittente tornerà domani alle 12.45 e alle 14.15 con il TGT Guglio Gente mentre in serata alle 19.30 e alle 22.45 il TGT Guglio, quello tradizionale con Fabio Guidoni grazie per l'attenzione, a domani previsioni per domani, sabato 22 ottobre al mattino possibili piovaschi nel pomeriggio, attenuazione dei fenomeni ma cielo sempre popolato da molta nuvolosità schiarite più ampie ai lati della regione venti moderati tra sud e sud-ovest rinforzi a largo e sui crinali mare da poco mosso a mosso le temperature previste sulla costa tra 14 e 19 gradi nell'entroterra tra 9 e 15 gradi